Tassi agevolate per le nuove attività pesaresi, ora anche il rimborso della Tari. Giovani accoltellato a Pesaro denunciato a un diciottenne del riminese. Montecicardo ha insediato il nuovo presidente e consiglio di municipio. Un fumetto ambientato nella Pesaro rinascimentale nel prossimo numero di Dago. La Pesaro rinascimentale nel prossimo numero di Dago. Negozi e attività produttive della città di Pesaro. Il comune infatti oggi ha presentato il nuovo regolamento che presenta significativi sgravi nei tributi comunali per le nuove imprese. Vediamo tutto in questo primo servizio. Per tre anni le nuove attività economiche pesaresi otterranno i rimborsi di IMU comunale, TOSAP addizionale IRPEF imposta sulla pubblicità e soprattutto sulla Tari fino a un massimo di 100 metri quadrati. E questa la modifica al nuovo regolamento per le attività del comune di Pesaro presentato oggi in Sala Rossa come importante misura a sostegno dell'impresa. Le attività pagheranno regolarmente i tributi ma poi potranno compilare il modulo di rimborso che vedranno erogato come contributo entro il 30 settembre 2021. Diventa un sostegno importante, un contributo importante per tutte le nuove attività economiche che apriranno a Pesaro. Quindi Pesaro per tre anni diventerà davvero una no tax area. No tax area che cosa vuol dire? Che tutti i tributi comunali quindi a cominciare dall'IMU, dall'ICP e includendo anche la Tari verranno rimborsati a tutte le nuove attività, a tutti i nuovi imprenditori che decideranno di aprire a Pesaro. Un'altra grande novità di questo regolamento è che interesserà non soltanto le attività commerciali ma anche tutti gli studi associati, tutti gli studi professionali. Quindi un giovane ingegnere, un giovane avvocato, un giovane vuol dire under 40 che decide di aprire uno studio a Pesaro si troverà per tre anni a non dover pagare nessun tipo di tributo comunale. È una misura importante di sostegno e rilancio dell'iniziativa imprenditoriale nel nostro territorio perché riguarderà non più soltanto il centro storico ma riguarderà tutta la città di Pesaro e diventa veramente uno strumento di rilancio dell'iniziativa economica e imprenditoriale per tutta la città. La modifica regolamentare è già stata approvata dalla Giunta Comunale. Un'attenzione alle nuove attività senza però dimenticare gli affanni degli esercizi già esistenti. Ovviamente questo è un momento economico molto particolare, questo ci impone di trovare tutte quelle misure che in questo momento sono possibili come comuni per poter aiutare le realtà già esistenti sul territorio. Tutto quello che era inquadrato all'interno dei provvedimenti nazionali il Comune di Pesaro l'ha fatto. Penso all'esenzione dell'occupazione solo pubblico che ha interessato non soltanto gli spazi in più ma tutto lo spazio pubblico in tutta la città di Pesaro. Penso all'esenzione IMU per alcune categorie. È chiaro che i provvedimenti che possono mettere in campo i comuni su questi tributi qua devono stare all'interno di quella che è una cornice nazionale che comunque qualcosa ha fatto. Poi ci auguriamo che da qui alla fine dell'anno possano esserci ulteriori possibilità di contributi o comunque di risorse da poter mettere in campo. C'è la possibilità anche per i subentri, quindi vogliamo anche dare una mano a tutte quelle imprese che funzionano, che quindi sono anni che nella nostra città portano avanti il lavoro nella piccola e media impresa e di conseguenza questo può aiutare a chi subentra a queste attività già esistenti. Gli uffici attività economiche nel momento in cui iniziano le procedure per una nuova apertura, perché è chiaro che passano tramite l'ufficio attività economiche, comunicheranno alle nuove attività che hanno la possibilità di usufruire di questi sgravi fiscali. Lo stato d'allerta sui contagi da coronavirus riaccende il timore delle chiusure anticipate per bar, ristoranti, pub e pizzerie. Non c'è ancora nessun decreto in merito, ma la Confcommercio pesarese avverte come un simile provvedimento diverrebbe del tutto insostenibile per i pubblici esercizi. Negli ultimi periodi si è ventilata l'ipotesi di una chiusura anticipata alle ore 22 o alle ore 23. e ovviamente subito ci siamo mossi come Confcommercio e come Fipe, che è la federazione italiana pubblici esercizi, per impedire questa misura a livello nazionale e locale con una campagna nazionale che diceva no chiusure, sì controlli. Perché? Perché il mondo della ristorazione, come quello dei bar, pub, ristoranti o pubblici esercizi, è già vessato da una presente crisi economica. tanto che da un'indagine nazionale il 64% delle persone non ha possibilità o intenzione di andare a cena fuori. Perché? Perché appunto usciamo da un periodo di lockdown, usciamo da un periodo di cassa integrazione comunque sia molto pesante e quindi le famiglie hanno meno capacità di spesa e da una stagione che seppur partita poi luglio-agosto in maniera abbastanza importante non ha colmato le perdite dei mesi di maggio con le cerimonie magari, comunioni, cresime, matrimoni. Quindi non possiamo continuare a vessare un settore che è già di per sé in crisi. Inoltre i nostri ristoratori dopo il lockdown hanno potuto riaprire i loro locali. Ma come? Applicando tutti i protocolli di sicurezza del caso. Quindi vuol dire mettere in sicurezza il ristorante, tutta la struttura e i propri dipendenti e se stessi per infondere anche nuova fiducia ai clienti che dovevano poi rientrare dopo due mesi a casa in un locale che doveva garantire appunto la massima igienizzazione, la massima sicurezza. Quindi questo cosa vuol dire? Investire di spese proprie, investire di tasca propria senza la garanzia che questo ritorno economico, questo investimento fosse poi dopo ovviamente coperto. Quindi hanno fatto uno sforzo enorme per dare nuova fiducia anche alle persone ovviamente che potevano entrare nel locale dare una nuova spinta al turismo che poi ha permesso questa stagione nel luglio ed agosto. Il mondo della ristorazione come quello dei pubblici esercizi in genere è veramente un mondo straordinario. È un mondo che non conosce ferie, è un mondo che non conosce festività perché loro praticamente lavorano sempre ed è fondamentale per il benessere della persona perché è piacevolissimo andare a cena fuori e poter godere di questa cena quindi non mangiare di fretta perché alle 22 o 23 chiuderanno poi i ristoranti, i pub o i locali ed è un mondo che è fondamentale per la tenuta sociale. Pensiamo tipo ai borghi, alle piccole città, ai nostri paesi che sono delle perle ovviamente culturali, storiche, di una bellezza incredibile e il vero presidio sociale di quei territori è proprio la ristorazione, il mondo dei pubblici esercizi. Inoltre chiudere alle 22 e alle 23, l'ipotesi che si era ventilata e che ora sembra che ci sia una sorta di dietro front, non aiuterebbe nemmeno per quanto riguarda la prevenzione sanitaria che per noi ovviamente è fondamentale ed è il primo posto. Perché? Perché la gente, gli ragazzi si riverserebbero nei marciapiedi, comunque sia nelle strade, senza alcun tipo di prevenzione. Quella prevenzione che appunto invece i ristoratori possono garantire. E quindi noi siamo contrarissimi a questa chiusura anticipata, ma siamo molto favorevoli ai controlli perché bisogna far sì che tutti i protocolli vengano rispettati, che tutti i ristoratori e pubblici esercizi li applicano e che quindi ci siano poi dei controlli e delle sanzioni per coloro che non rispettano questi protocolli. Perché come ci dicevano alcuni nostri ristoratori, ci sono anche ristoranti datori di lavoro che non rispettano questi protocolli di sicurezza e a causa loro viene meno magari la fiducia verso tutti coloro che invece rispettano in maniera integerima questi protocolli. Ed ora passiamo alla cronaca. Ci siamo occupati anche ieri di questo importante e inquietante episodio di accoltellamento durante una festa privata tra ventenni in strada dei condotti in una zona di campagna non lontana al quartiere di Muraglia. Le indagini della squadra mobile di Pesaro hanno ora individuato il presunto responsabile delle due coltellate inferte ad un 21enne moldavo. Si tratta di un 18enne residente nel Riminese che è stato identificato dopo una serie di testimonianze. Non è stato arrestato per la trascorsa flagranza di reato ma verrà denunciato a piede libero per lesioni gravi. Per il ragazzo ferito la prognosi è di 20 giorni. Alla base dell'aggressione c'è stata una lite per futili motivi legata al rifiuto rivolto da un gruppo all'altro nell'essere ammessi a una festa privata poi degenerata nel sangue. E questa mattina in prefettura si è riunito il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico. Dalla riunione è emersa la prospettiva di una nuova intensificazione dei controlli per il rispetto delle norme di contenimento al contagio Covid-19. Pesaro non abbassa la guardia sul contrasto al Covid-19. Anzi, impegno rinnovato nei controlli, sensibilizzazione ai corretti comportamenti e sanzioni alle condotte irrispettose sono i tre punti focali messi sul piatto dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato questa mattina a Palazzo Ducale dal prefetto Vittorio Lapolla alla presenza di gran parte degli amministratori locali della provincia, forze di polizia, ispettorato del lavoro e ufficio scolastico provinciale. Proprio la scuola è uno dei luoghi maggiormente attenzionati in questo periodo di guardia alta sui contagi. L'intento è quello di predisporre azioni di controllo agli accessi presso gli istituti mentre un altro incontro sarà presto dedicato ai controlli nel trasporto scolastico. Controlli nelle scuole, controlli nei luoghi della Movida. L'incontro del Comitato ha previsto una nuova vigilanza irrobustita nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini durante il fine settimana. Una intensificazione che arriva anche a ruota della nuova ordinanza di obbligo di mascherina all'aperto nei luoghi sensibili all'assembramento predisposta dalla nuova amministrazione regionale di Francesco Acquaroli. Tante azioni dunque per scongiurare sul nascere una seconda ondata di contagi. Contagi che sono tuttora stabili con 35 nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore nella regione Marche, due soltanto però nella provincia di Pesaro Urbino. Ed ora ci spostiamo a Montecicardo perché si è insediato il nuovo municipio che dopo il referendum per la fusione e l'ultima chiamata alle urne è diventato a tutti gli effetti un'amministrazione operativa all'interno del Comune di Pesaro. Vediamo tutto in questo servizio. È diventata operativa l'attività di Montecicardo come municipio incorporato al Comune di Pesaro. L'ultima chiamata alle urne ha eletto, col raggiungimento del quorum degli aventi diritto al voto di Montecicardo, il presidente del neonato municipio Claudio Bonazzoli che si è insediato con cerimonia di giuramento. Oggi con il giuramento al primo consiglio di convalida degli eletti del municipio prende forma questa nuova fase amministrativa per il Comune di Montecicardo. dobbiamo iniziare a lavorare. Nel Comune di Pesaro ha già anticipato i primi soldi per gli asfalti, sono già stati fatte alcune vie. Da qui a dicembre noi dovremo cercare di capire gli investimenti per il 2021 da mettere a bilanza nel Comune di Pesaro, quindi in questi mesi lavoreremo soprattutto per questo. E poi anche per tutto il resto, per far rinascere questo territorio che ultimamente è stato un pochino trascurato. È una bella responsabilità quando non c'è più un Comune, si diventa un appendice di un Comune più grande, quindi c'è un lavoro importante per non sentirsi troppo periferia. Sì, sicuramente potrebbe essersi una parte di rischio in questa scelta che i cittadini hanno voluto con il referendum, però dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, sta ai cittadini stessi non far morire un territorio. Quindi fare in modo che la gente rimanga ad abitare qui, che ci siano servizi, che la gente sia attiva e partecipe nella vita comunitaria è molto importante. Quindi riteniamo che comunque essendoci tante persone ancora legate a questo territorio si possa fare un bel lavoro anche da questo punto di vista. Adesso si inizia a lavorare. Claudio, il nuovo presidente, ha giurato, il Consiglio è stato eletto e il Municipio di Montecicardo avrà una funzione importantissima perché Montecicardo ha mantenuto l'autonomia decisionale, quindi tutto ciò che decideremo che riguarda questo territorio dovrà avere il parere preventivo positivo da parte del Municipio di Montecicardo. Quindi è una forma di partecipazione e di autonomia che abbiamo riconosciuto grazie alla fusione per incorporazione. I cittadini hanno dato grande fiducia a questa unione con Pesaro e adesso hanno dato fiducia alla nuova squadra unitaria che si è creata nell'interesse di Montecicardo. Abbiamo iniziato i primi lavori di asfaltatura ma c'è subito da programmare il mutuo che dobbiamo prendere per circa 5 milioni di investimenti che dovevamo realizzare già dal 2021 in questo comune. Quindi Claudio avrà un grande lavoro da fare insieme al Consiglio perché le priorità arriveranno appunto dal Consiglio Municipale e noi dovremo da subito, dal bilancio 2021, cominciare a finanziarli. Quindi c'è tanto lavoro da fare e tanta precauzione ancora da tenere a causa del virus che è ancora tra noi e quindi dovremo aumentare ulteriormente le precauzioni, le mascherine, le distanze, il lavaggio delle mani, scaricare l'app immuni. Quindi avremo mesi davanti a noi molto complicati però da oggi Pesaro è ancora più forte. C'è una squadra locale su Montecicardo che ci darà una mano a realizzare al meglio le cose previste sia a Montecicardo, a Montegaudio, a Villabetta, in tutto il territorio splendido che da qualche mese ormai è comune di Pesaro. Cade un'altra roccaforte del centro-sinistra, Marchigiano. Il Comune di Senigallia infatti ha eletto il nuovo sindaco dopo il turno di ballottaggio. Il nuovo primo cittadino è Massimo Olivetti, candidato della coalizione composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e La Civica. Olivetti ha vinto una sfida serratissima con Fabrizio Volpini, battuto per appena 433 voti. 51,8% contro 48,92%. Nella città del sindaco uscente Maurizio Mangialardi, appena battuto alle elezioni regionali da Francesco Acquaroli, si registra dunque un'altra sconfitta per il centro-sinistra, Marchigiano. La Croce Rossa di Pesaro interviene anche nell'emergenza a sostegno della povertà. Nella sede di Via Saffi è stata infatti allestita una piccola lavanderia a servizio delle fasce più deboli della città. Un progetto che ci viene illustrato in questo prossimo servizio. Mi fa piacere di poter parlare anche di queste attività della Croce Rossa, perché nell'immaginario comune la Croce Rossa viene sempre identificata con l'ambulanza, con il soccorso sanitario, mentre invece la Croce Rossa è tanto altro. I nostri volontari si occupano di tante altre attività, in particolar modo attività che sostengano e aiutino le fasce più deboli. In questo caso specifico il nostro comitato, insieme ad altre associazioni benefiche della città, ha partecipato a un bando promosso dall'ambito territoriale e sociale di Pesaro, proprio per volto a sostenere e aiutare le povertà estreme. Ci siamo divisi un po' i compiti, nel senso che questo programma ovviamente prevede diverse attività di sostegno, e alla Croce Rossa è stato affidato il compito di realizzare e gestire una piccola lavanderia che verrà quindi messa a disposizione delle persone poi identificate, delle famiglie più in difficoltà identificate dai servizi sociali del comune e questa lavanderia è stata realizzata nella nostra sede storica di Via Saffi, che è qui alle nostre spalle. La lavanderia avrà per il momento un funzionamento di mezza giornata, un paio di volte alla settimana, poi dopo vedremo in base alle richieste se sarà necessario modificare questi orari e queste tempistiche. Ci saranno dei nostri volontari che verranno ad aprire e ad assistere, aiutare le persone che verranno mandate dai servizi sociali per utilizzare queste lavatrici, asciugatrici per lavare i loro panni. Sì, direi che la notizia probabilmente ancora più bella rispetto a quella che già siamo a celebrare oggi è il fatto che siamo insieme. Non è scontato che in un territorio come Pesaro la povertà si affronti facendo rete, sia con il pubblico che con il privato, che con il volontariato, per cui questo è l'inizio di un percorso che ci porterà lontano, credo, e porterà le persone, le fasce più deboli, a essere sempre più incluse e integrate nella nostra città. Siamo in tanti ed è bello perché siamo in molti a interessarci degli ultimi. Abbiamo con noi la Città della Gioia, la Olus Gulliver e l'amministrazione, tramite l'ambito territoriale, quindi che rappresenta anche tutti l'Unione dei Comuni. Ed è bello questo sguardo comunitario verso i più poveri. Nella notte fra domenica e lunedì si è verificato un guasto nel funzionamento dell'acquedotto principale. La rottura è avvenuta in via Regolo a Cucurano e ha interessato la condotta portante del potalizzatore di calcinelli, dal quale si alimentano le città di Pesaro e Fano. I tecnici di Marche Multiservizi sono stati impegnati nell'intera giornata di lunedì per riparare la rottura con la sostituzione di 15 metri di tubature. Allertata anche l'ASET per attivare fonti idriche alternative. Non si sono registrate interruzioni nell'erogazione dell'acqua sul territorio. Al liceo scientifico Marconi di Pesaro è iniziata una raccolta firme a favore della didattica tradizionale per le classi quinte. Un'iniziativa nata dopo aver sperimentato la didattica digitale integrata che dimezza le classi in due gruppi che assistono contemporaneamente alle lezioni. Metà in presenza, metà a distanza. Una modalità che gli studenti reputano non all'altezza di un anno strategico come la quinta superiore e chiedono dunque la sola didattica in presenza nel rispetto delle norme anticontagio. Nuova laurea magistrale all'Università di Urbino. Si è svolta ieri la prima lezione del nuovo corso di studi in informatica applicata. Il corso è coordinato dal professor Aldo Aldini e concilierà gli studi dell'Ateneo con esperienze di collaborazione con aziende del territorio. Ed ora un appuntamento. Domenica 11 ottobre alle ore 17.30 presso l'archivio di Stato di Pesaro si inaugura la mostra personale di Mario Vespasiani Epidemie, uomini e fatti. I documenti della storia in dialogo con l'arte del presente. La mostra, curata da Cecilia Casadei e Roberto Domenichini, sarà aperta al pubblico fino al 14 novembre. Pesaro finisce fra le vignette di un fumetto. Dago della Lancio Storia ha infatti deciso di ambientare la sua prossima avventura in uscita il prossimo 19 ottobre nello scenario rinascimentale della città di Pesaro. Le vignette di Dago si avventurano nella Pesaro rinascimentale. Uno dei fumetti più amati in Italia e in Sud America, edito da Lancio Stori, ambienta la sua prossima storia in uscita in edicola il 19 ottobre, proprio attorno al porto di Pesaro. Dago è un personaggio nato nel 1980 dalla penna del paraguaiano Robin Wood e racconta la vita del nobile veneziano Cesare Renzi, che dopo una serie di peripezie viene ridotto a schiavo e ribattezzato Dago per via della daga conficcata nella schiena. Dopo 40 anni di pubblicazione, negli ultimi mesi l'editoriale Aurea ha deciso di muovere il personaggio nel territorio italiano con le cosiddette storie attrazione italiana, che ci vengono illustrate da Gianluca Piredda, autore della storia di Dago ambientata a Pesaro. Le cosiddette storie attrazioni italiane nascono dalla voglia di far muovere maggiormente Dago nel nostro territorio. Insomma, un'occasione per raccontare uno spaccato di storia delle regioni, le tradizioni, qualche volta le leggende. Facendo così conoscere al nostro pubblico fatti e personaggi spesso poco noti, ma importanti, come nel caso di Grazia Nasi. Dopo 40 anni di vita editoriale, Dago continua a conquistare lettori perché è un eroe classico, da romanzo, con una vita vissuta intensamente. Lui nasce a Venezia, come nobile, è vittima di una congiura, viene tradito, finisce schiavo e via via diventa Giannizzaro e gira letteralmente il mondo, incontrando la storia. Grazia Nasi fu infatti una delle donne più influenti del XVI secolo. La storia a lei dedicata si intitola L'Ebrea Errante e Piredda ci spiega le ragioni della scelta dell'ambientazione pesarese. Pesaro era l'ambientazione perfetta in cui iniziare questa avventura di Dago. Infatti è qui che Grazia Nasi dirotò i suoi traffici mercantili e commerciali con l'Oriente dopo aver buicottato il porto di Angona. In questo periodo venne costruita anche la sinagoga a Serafita. Donna Grazia è stata una delle donne più importanti e influenti della propria epoca. Coraggiosa, potente, non si è mai arresa le tante situazioni complicate che ha dovuto affrontare. Insomma, una donna interessante che andava a raccontare. Ed ora passiamo al consueto appuntamento con lo sport. Partiamo con la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che deve fare i conti con l'infortunio patito dal capitano Carlos Delfino che ha riportato una lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale sinistro. Infortunio non grave ma dopo la rinuncia alla trasferta di Cantù difficilmente l'argentino recupererà la prossima partita con Venezia. E dal basket passiamo al rugby perché la Pesaro Rugby ufficializza il rientro in squadra del sudafricano Lyle Joubert. Dopo la stagione vissuta a metà a Valpolicella a causa del Covid il mediano d'apertura rientra dunque a Pesaro dove la scorsa primavera è nato il suo primo genito Nicolas. Una scelta dettata dal cuore e dalla convinzione di poter continuare a giocare a rugby in Serie A. E questa era l'ultima notizia vi ricordo l'appuntamento della prima serata su Rossi di TV infatti questa sera alle 21.15 non perdetevi questa grande sfida di questo ciclista infatti Fisioradi Center ha organizzato lo scorso fine settimana Everesting guardatelo, seguitelo ci sono delle immagini bellissime del territorio fate con il drone e potete rivedere in replica anche alle 22.30 e vi ricordo anche il nostro numero di telefono per mandarci le vostre segnalazioni 370-366-7210 adesso per voi c'è il meteo noi ci ritroviamo domani mattina in diretta alle 7.20 con la nostra rassegna stampa grazie a tutti grazie a tutti